Avola, rischiando di travolgere il militare, in moto fugono all'alto dei carabinieri ma rovinano al suolo. Una moto con due persone a bordo non si è fermata a un posto di controllo dei carabinieri lungo il corso manuele di Avola. L'uomo alla guida, dopo aver evitato con una pericolosa manovra il militare che gli intimava l'alta, ha accelerato nel tentativo di eludere il controllo. Percorsi pochi metri però il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato a terra, cagionando lesioni alla passeggera che lo accompagnava. Nella circostanza, anziché prestarle soccorso, ha ripreso la fuga da solo facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno interrotto l'inseguimento per prestare soccorso alla donna, allertando il 118 e attendendo l'arrivo di personale medico. La donna non ha inteso fornire ai carabinieri il nome del conducente della moto, rintracciato poco dopo dagli operanti che hanno rinvenuto anche la moto utilizzata, sequestrandola in quanto sprovvisa di assicurazione. Il giovane, un 23enne di Avola, è stato deferito all'autorità giudiziaria di Siracusa per fuga e omissione di soccorso. Inoltre, essendo stato sorpreso per la seconda volta in due anni alla guida di un veicolo senza patente, dovrà rispondere anche di questa ultima violazione. Grazie.